Parto nei lavori sul ponte della provinciale 27 Castrocello Broglio, chiuso nel mese di aprile a causa delle precarie condizioni della struttura, ad annunciarlo il consigliere provinciale con delega alla viabilità Gabriele Corei. Ci siamo attivati immediatamente per risolvere un problema del quale avevamo ben chiara la priorità, spiega Corei, e se non siamo intervenuti pubblicamente perché abbiamo preferito fare la scelta di parlare su fatti concreti piuttosto che fare polemica sul nulla. A poco più di due mesi dalla sua chiusura, continua Corei, l'avvio dei lavori sul ponte che nel giro di meno di un mese consentiranno di poter ripristinare la viabilità lungo la provinciale 27, riaprendo il passaggio in monocorsia a senso unico alternato per i veicoli fino alle 28 tonnellate. Si tratta di una misura studiata ed analizzata per garantire la massima sicurezza e che permetterà sia al transito dei veicoli agricoli delle aziende interessate della zona, che così vedranno eliminati i disagi per il periodo di maggiore necessità costituito dai raccolti di fine estate, sia degli autobus scolastici che al rientro delle vacanze estive potranno ripristinare il normale servizio per gli studenti. L'intervento provvisorio, continua la provincia, che andremo a realizzare, comporterà l'installazione di una struttura di sostegno alle travi attualmente lesionate e il materiale che adopereremo sarà poi quello che verrà riutilizzato per l'intervento definitivo di recupero del ponte, che sarà presumibilmente compiuto nei primi mesi del 2018.